A seguito di alcune segnalazioni giunte alla nostra redazione, le telecamere di TV City sono subito a corse qui, in via Montedoro. Terra di nessuno è stata così soprannominata a questa zona, abbandonata, lasciata a se stessa tra rifiuti ed erbacce lungo i marciapiedi. Terra di nessuno, è così che i residenti definiscono la zona di via Montedoro. A seguito di alcune segnalazioni, le telecamere di TV City sono andate sul posto per verificare e documentare la situazione. Dal sopralluogo emerge che l'ultimo tratto, poco dopo l'ospedale è in direzione Vesuvio, appare visibilmente trascurato. Sui marciapiedi l'erba cresce alta e tra quegli stessi cespugli, nascosti ad un primo sguardo, rifiuti abbandonati. I bidoni della differenziata presenti all'inizio della strada mancano nell'ultimo tratto. Come se non bastasse, i mezzi pubblici circolano solo fino ad un punto della strada, costringendo così i residenti del luogo a proseguire a piedi. Dalle segnalazioni sembrerebbe inoltre che l'ultimo tratto della zona non sia servita dalla Gori, sebbene l'acqua debba essere un bene imprescindibile per tutti. Una via Montedoro divisa. Se il primo tratto della strada non sembrerebbe avere grosse problematiche, il secondo appare inequivocabilmente vittima di incivili e dell'indifferenza dell'amministrazione comunale.